SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Anche questa settimana una puntata tutta da vivere a fil di cielo con le scarpette a trail running. International Rosetta Sky Race, Gil Pintarelli vince la gara, Martin Stoffler, il circuito, la sportiva, mountain running cup. Dopo sette anni sono proprio contento, un po' me la sentivo, ci speravo, stavo bene, poi la gara è gara e sono riuscito a concretizzare questo sogno. Siamo partiti forte, bene, come piace a me, gara tirata, Daniel ha fatto un gran ritmo fino in cima, discesa bene, poi mi ha raggiunto Stoffler quando ero in testa, però siamo andati giù molto bene insieme e alla fine ne avevo un po' di più io e ho vinto. Sono contento di aver vinto il circuito della sportiva, mountain running cup, non me l'aspettavo sinceramente di neanche arrivare sotto i primi tredi. È andato benissimo, oggi è finita la gara secondo, niente di dire, è andato benissimo. Ho capito di poter vincere il mountain running cup quando ho vinto la gara di Ledro e dopo quando abbiamo fatto la gara Joker, o si chiama Joker, lì stavo bene e dopo ho detto, ah dai facciamo tutte, proviamo a vincerlo. Nella classifica in rosa Lisa Buzzoni fa doppietta, oltre alla spettacolare Kermes dalla Valle del Bitto, si aggiudica anche il primo posto nel circuito. Oggi è stata proprio una bella gara, sono riuscita a gestirla bene e questa vittoria mi ha completato un po' la stagione, era un po' una ciliegina sulla torta, riuscire a vincere anche la finale del circuito, dà un po' più valore all'aver vinto anche il circuito. Oggi è stata proprio una bella gara, il percorso mi è piaciuto un sacco, per me era la prima volta su questo percorso nuovo. L'ho gestita bene, non ho tirato troppo in salita per riuscire a dare tutto in discesa e è andata bene. Il circuito della sportiva Mountain Running Cab quest'anno è stato uno dei principali obiettivi di inizio stagione. Non sono riuscita a partire con la 30 passi per impegni familiari, poi le altre gare le ho seguite tutte, sono state una più bella dell'altra, una più interessante dell'altra. Mi sono sempre divertita in sacco, le gare mi sono piaciute, è stato ancora più bello riuscire a vincere qualche tappa. Luca Cagnati e Anna Finizio si aggiudicano una gelida a Transpelmo. La gara è andata bene, oggi ho fatto un po' fatica fino al rifugio Venezia, non avevo grandi sensazioni, non riuscivo a sbloccarmi e poi comunque avevo già preso un minimo vantaggio, poi sono riuscito a incrementare un po' fino in forcella e poi in discesa ho cercato di amministrare, sono comunque caduto alla fine del gaglione perché l'ho presa un po' sotto gamba, però comunque avevo un buon vantaggio e è andata bene così. Le mie aspettative non erano queste, però alla fine sono anche partita un po' dietro per testare un po' il terreno, ma alla fine ho visto che stava abbastanza bene e un po' alla volta, anche aiutata dal bel paesaggio e stimolata, ho preso il mio ritmo e amando le montagne mi sono ritrovata nel mio habitat, anzi con la neve è stato ancora più entusiasmante, visto che il tracciato era molto più tecnico e insomma la discesa era quasi da sciare, quindi alla fine facendo sci alpinismo insomma me la sono cavata abbastanza anche nella discesa tecnica. Maga Sky Marathon, Giorgi Slabotz e Ingrid Mutter come da pronostico. Per la prima volta nella storia della Maga Sky Marathon è stato infranto il muro dei 300 concorrenti, la prova regina parla rumeno con i successi di Giorgi Slabotz e Ingrid Mutter, entrambi portacolori della Valle Tudo Sky Running Italia. La Marathon maschile è stata contrassegnata dal duello fra Slabotz e Bazzana, che poi ha alzato bandiera bianca. L'allievo di Jon Uzzinka ha tagliato il traguardo di Serena dopo 4 ore 50 minuti e 50 secondi. In seconda posizione l'azzurro di trail running Luca Carrara, sul terzo gradino del podio invece l'orobico Clemente Berlino. Al femminile Ingrid Mutter ha corso in solitaria per tutti i 39 chilometri, tagliando il traguardo in 6 ore 08.24. Giulia Saggini invece ha conquistato il secondo posto, terza all'atleta di casa Carolina Tiraboschi, nella Maga Sky Race successo di Fabio Bonfanti e Martina Brambilla. Moscato di Scanzo Trail, nella DOCG più piccola d'Italia, una domenica a tutto trail. In vista della seconda edizione in programma per domenica, il comitato organizzatore della Moscato di Scanzo Trail sta lavorando a pieni regimi, tirando a lucido uno splendido anello ricavato tra i filari e le cantine della più piccola DOCG d'Italia. L'obiettivo dichiarato? Regalare una splendida giornata di sport all'insegna del turismo e no gastronomico a tutti i 400 trailer iscritti. Rispetto allo scorso anno, alcune migliorie renderanno la gara ancora più bella ed emozionante. Sulle colline, famose in tutto il mondo per il passito a bacca rossa, ottenuto da vitigno autoctono coltivato su un terreno di soli 31 ettari, non solo trail running, mentre gli appassionati della corsa potranno cimentarsi su un bel percorso da 20 chilometri con 900 metri di dislivello positivo, parenti, appassionati e supporter potranno invece vivere tre giorni di festa con tanti eventi collaterali, ottimi pasti e rinomati vini. Adamello Ultra Trail 2017, le iscrizioni chiudono domenica. Iscrizioni ancora aperte per la quarta edizione dell'Adamello Ultra Trail. Sulle prove lunghe, il numero delle adesioni hanno già superato quelle 2016, più di 100 sulla lunga, 200 sulla prova intermedia da 90, ma il comitato organizzatore ha deciso di prorogare di una settimana il termine ultimo delle iscrizioni, per dare la possibilità anche agli indecisi dell'ultima ora di correre sui camminamenti della Grande Guerra. Le date da segnarsi in agenda sono quelle di venerdì 22 settembre, quando dal centro di Vezza d'Oglio partirà la 180 chilometri con 11.500 metri di dislivello positivo. Il giorno successivo toccherà la 90K con 5.700 metri di più. In questo caso start da Ponte di Legno, per poi lasciare spazio ai riflettori la domenica mattina alla 30 Trail, proposta in partnership con Rosa Associati, azienda leader nell'ambito del running. Sempre più una vinto per tutti, sempre più un happening per gli amanti dell'outdoor running, visto che quest'ultima prova strizzerà l'occhio all'off-road. Rispetto al passato si presenterà infatti molto più scorrevole, con 650 metri di dislivello positivo e solo il 30% di asfalto su pista ciclabile. Prologo di questa spettacolare tre giorni, il primo Adamello Trail Junior. Dieci categorie e differenti chilometraggi a seconda della fascia d'età. In programma proprio questo sabato vione una full immersion di natura e single track per un primo approccio all'outdoor running e un primo step per coloro che, da grandi, vorranno cimentarsi sulle lunghe distanze. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.adamelloultratrail.it Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio in gara non cambia. Sognate, osate e non bollate mai!